Da Teramo il Teramo senza otto giocatori, Tozzo, Boa, Andreca, Soprano, Trasciani, Cucurullo, Rossetti e Cheremateng. Andreca naturalmente nazionale albanese, mentre il Pescara è privo di Di Gennaro, Chiarella e Chiarella non sono stati convocati. Non è stato convocato Val di Fiori e poi era assente anche Veroli per problemi di natura intestinale. Sempre 4-3-3, formazioni annunciate davanti Galano e Dursi a supporto di Ferrari. Nel Teramo Malotti e Rosso insieme con Bernardotto, ancora a digiuno di gol con la baglia del Teramo inquadrata alla tifoseria biancorossa. L'arbitro del signor Simone Galipò di Firenze comincia bene il Pescara, una buona pressione. Il Teramo remissivo, stranamente remissivo anche per merito del Pescara. C'è questo calcio di punizione di Memushai, si fa trovare pronto Agostino, classe 2002, non ha ancora compiuto 19 anni a seconda partita da titolare in campionato proveniente dal Genoa. Poi vediamo l'imbucata di Mungo, bello lo spunto, e la conclusione di Bernardotto, dunque occasione anche per il Teramo. Bravo Sorrentino, reattivo al centro della sua porta, va a sventare la minaccia, il corner di Pompetti, il colpo di testa di Ferrari con la sfera che sorvola attraversa la porta teramana. 37esimo minuto nel corso del primo tempo, Dursi imbeccato da Anzita e c'è un intervento davvero provvidenziale di Piacentini, il migliore del Teramo che va ad anticipare Ferrari che altrimenti avrebbe segnato a porta vuota. Praticamente come un gol fatto, l'intervento di Piacentini, il cross di Cancellotti, ex della partita, va a staccare di testa Ferrari, colpisce il pallone con la mano ingenuo, il difensore Bellucci che viene anche ammonito, increduli i giocatori del Teramo, ma lo stesso Guidi a fine partita ha ammesso l'ingenuità del difensore centrale classe 2001, rivediamo anche se questo fallo non è evidentissimo perché stacca di testa Ferrari, evidentemente c'è il tocco con il braccio con la mano di Bellucci che va a smorzare il colpo di testa del centro avanti, Biancazzurro che si incarica del rigore, spiazza Agostino, questo è il sesto gol in campionato per Franco Ferrari, classe 1995, il quarto gol nelle ultime sei partite, sempre più fattore dell'attacco Biancazzurro, Franco Ferrari che rivediamo spiazza senza problemi, Agostino il secondo rigore trasformato dall'attaccante Italo Argentino, rivediamo ancora l'esecuzione precisa di Franco Ferrari, maglia numero 9, dunque Teramo sotto di un gol, Pescara in vantaggio al 41esimo, siamo nella ripresa, il Pescara comincia come nel primo tempo, cioè o meglio continua la pressione, c'è questa conclusione di Pompetti, la palla viene bloccata in due tempi dal portiere Agostino, poi perde un pallone sanguinoso a centrocampo Mungo e c'è la ripartezza della Pescara con Galano che si accentra, finta il tiro, poi allarga per Dursi, grande opportunità, impatta malissimo, il pallone da posizione più che privilegiata, Eugenio Dursi che è tornato a giocare nell'ultima partita titolare dopo uno stop di tre giornate, di tre partite causa coronavirus, qui c'è un fallo di Dursi su Bellucci, l'arbitro interviene e non interviene neanche sul fallo evidente subito da Ferrari ad opera di Arrigoni, dunque manca un penalty al Pescara, però prima bisogna essere onesti, c'era un fallo di Dursi su Bellucci, l'arbitro lascia proseguire, 63esimo, il primo corner battuto dal Teramo in questa partita, il corner di Arrigoni in volé, completamente solo Piacentini, timbra il palo sinistro della porta, difesa da Sorrentino, la difesa della Pescara rimane a guardare, c'è questo palo clamoroso colpito da Piacentini, ripetiamo, secondo noi il migliore del Teramo, classe 99, scuola Sassuolo, quarta stagione nel fila biancorossa e poi il gol della formazione di Guidi, c'è un lancio di Asiosmanovic, Lombardo che era subentrato a Rillo dal primo minuto della ripresa, perfetto il suo inserimento, una sponda e il gol di Bernardotto che è stato lasciato completamente solo all'interno dell'area piccola, è la prima rete in questo campionato per Bernardotto, classe 97, in prestito da Lavellino, il pareggio dunque del Teramo al minuto 85 di questa partita, dopo che il Pescara era stato incapace di chiuderla perché insomma qualche occasione importante c'è stata, rivediamo ancora il perfetto inserimento di Lombardo, Mattia Lombardo, figlio di Attilio, ex giocatore importante di Juve, Sampdoria e Lazio ma anche della Nazionale, dunque l'esultenza di Gabriele Bernardotto al primo gol con la maglia del Teramo, ci prova nel finale il Pescara con Pompetti, il suo calcio franco con la palla che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Agostino, inquadrato Pompetti, ci sono state diverse sostituzioni operate da Gaetano Oteri, per esempio era uscito già da un po' di tempo Ferrari, l'autore del gol dell'entrato De Marchi, qui il colpo di testa proprio di Michael De Marchi con la sfera che termina a lato, e dunque finisce praticamente qui la partita, c'è quest'altra opportunità a disposizione di Clemenza, però da fuori insomma, praticamente un whatsapp per Agostino, 94esimo, 4 minuti di recupero, finisce 1-1, Pescara ancora deludente, il Teramo non ruba nulla. Grazie a tutti, grazie a tutti.